Siamo di fronte a un brano di Vangelo davvero molto bello e si parla di incontri. Prova a pensare a quanti incontri hai avuto nella tua vita. Ci sono tantissime persone che ti verranno in mente. Alcuni incontri sono stati sicuramente più significativi, hanno lasciato di più il segno in te. Altri ti sembrano essere stati incontri magari un po' banali, ma in realtà nessun incontro è mai banale e nessun incontro scorre mai via proprio così. Allora oggi si parla di un incontro, un incontro speciale di Gesù con questi primi discepoli. La cosa interessantissima è che all'inizio è Giovanni il Battista che indica a questi discepoli Gesù. È come nella nostra vita, quante volte qualcuno ci presenta qualcun altro. Noi incontriamo le persone e qualcuno ci ha mostrato queste persone qui. Guarda che quella è quella persona lì, guarda che quello fa questa cosa qui, quello lì è e ce lo presentano. Noi non partiamo mai a caso, c'è sempre un qualcuno che ci prepara. E poi l'incontro, l'incontro dove noi siamo chiamati a seguire la persona, a scoprire la persona, dove dimori, apre tutto una grande cosa interessantissima sul fatto che passo del tempo con la persona, scopro la persona, la persona si svela a me e io nello stesso tempo mi svelo a quella persona lì. E questi incontri della nostra vita, l'incontro con Gesù, perché qui stiamo parlando soprattutto di questo, a un certo punto apre al fatto anche che in quell'incontro lì io mi sento davvero carico. Ogni incontro ti lascia un segno. Tanti sono stati sicuramente segni positivi e davvero non faccio esempi perché porrei dei limiti alla vostra immaginazione. Altri sono degli incontri che forse ci hanno lasciato un segno negativo, ma non importa, c'è sempre un segno all'interno di un incontro. E quell'incontro lì ti porta a un certo punto a capire chi sei tu. È quell'esperienza che hanno vissuto questi discepoli. Sono stati con Gesù, hanno preso entusiasmo, hanno incontrato questo Gesù, sono andati da altri a dire, oh, ho incontrato questo Gesù. E poi nell'incontro con Gesù tu scopri chi sei davvero anche tu. Io penso a tante attività delle nostre comunità cristiane. E penso anche a quanto siamo andati spesso a insistere su un'idea di teoria. Ti insegno, ti dico. In realtà penso che dovremmo imparare di più a ti aiuto ad incontrare. Perché quando incontri, va di te, scopri chi sei te, scopri chi è l'altro, ti apri all'altro e soprattutto provi una gioia che è quella che poi va a catalizzare anche tante altre persone intorno a te. Che la nostra comunità possano diventare comunità di incontro. Incontro dove io mi sento un po' a casa, dove scopro la tua casa, dove scopro la mia vita e dove davvero noi possiamo crescere insieme con entusiasmo e coinvolgere sempre più persone. Grazie!